Che sei fatto? Mi piacciono i panini, maionese e ketchup e poi per ingerire un cucchino di grappa indosso un maglietto, una roba di grappa e sotto i pantaloni metto solo il make-up E' vero? E' vero? E' vero? E' vero? Mi piacciono i panini specialmente con la tricca e faccio vinto rutto con una 7-up a sotto cazzone tengo un sparatrap perchè mi giuro sempre i filer in da zip Azz! E poi va? Azz! A casa in famiglia noi siamo un'equip e sono frequentato da persone vinta si gioca a vinci, a poche strip e ci si lascia andare con la musica a mondo E' vero? E' vero? E' vero? E' vero? E' vero? Invece a casa mia noi parliamo una truppa la sera facciamo che la famiglia rompe un po' che scoppe, un po' che stop e poi ci consuliamo che faccio la zuppa Azz! Ad aprire conseguenze! Ehi che facciamo! Hip-pop Mia figlia? Mia figlia? Mia figlia? Mia figlia? Mia figlia? Mia figlia è questo tipo TAP Capelli corti? Gizzo con le top Scarpette ginniche Hoppa hoppa Passiglia come una model top Mia figlia naninella è solamente una TAP dal rock al jazz b-pop col basso elettrico ti fa lo slap e solo la chitarra come Frank Zapp Ho fidanzato i figlia ma si chiama Filippo se guarda mia settimana te ne calla la TAP però te ne avevo capito nessuno cap perchè passo con il russanuzzo per me stop Azz! 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 Mia moglie non è se per fare lo shop Anche per comprare Anche per comprare Una bottiglia Anche per comprare Una bottiglia di lip con cellulave lei chiama la coppa e arriva un gazzone con tanto di zip è vero Mia figlia invece ha... Mia moglie Mia moglie invece ha descendere la coppa perchè sono tre mesi che non pavano la zip e se bussero la spesa la pesano troppo Che fa? O trova la cocostrunza che ci porta in coppa Azz! Clementino Oh Federico Bella Bella Stuto con c'è?